Lo dice lui c'è la giuola Che cosa è la voce? Grande, comunque Allora adesso c'è un strumentale Quindi non canto Almeno siete contenti Non ho metto più mezzo Devo spostarmi ancora Dura anche un po' 9 minuti circa Oddio Oh graffa E' una breve tragliata Qui è fuori la macchina Graffa va Sì Vediamo il rolling Graffa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.